Il Campobasso ha ricevuto il benvenuto dallo Stato Maggiore della Lega Pro presieduta da Matteo Marani. Un invito ovviamente esteso pure ad Alcione, Caldiero Terme, Clodiense, Pianese, Carpi, Altamura, Cavesse e Trapani, cioè le altre vincitrici della Serie D. La società Rosso Blu lavora su tanti fronti, da quello burocratico a quello sportivo, riaffidato a Filipponi, già incaricato da Rizzetta la notte stessa del salto di categoria. Partendo dal presupposto che non tutti rifaranno parte della rosa in Lega Pro, il principio dominante è quello di non snaturare l'organico e, su una discreta base, procedere a dei puntelli che alzino la qualità. Iniziano gli assalti da calciomercato ai gioielli Rosso Blu, lo stesso portiere Manuel Esposito, pare e piaccia molto alla Fidelisandria, squadra arrivata a quarta nel girone H della Serie D. Da par suo il campo basso punta ad acquistare il giocatore dal Benevento, sempre che le cifre non siano stellari. Anche l'età di Esposito alletta la società Rosso Blu. In Serie C ci sono varie società, fra cui il Rimini, interessate sia al centrocampista Serra che all'attaccante Di Nardo. Intanto pare che Filipponi voglia ripartire fra gli altri anche da Andrea Lombari, giovane molisano che ha chiuso la stagione in crescendo. Sembra che la società voglia blindare l'attaccante. Nelle ultime ore circola la voce di un accordo triennale che dovrebbe essere solo ratificato. Il gruppo è stata l'arma in più del campo basso di Pergolizzi. Questo è fuori discussione. Anche il tecnico non ha nascosto un gradimento in caso di prosecuzione del rapporto. In generale una conferma di Pergolizzi sarebbe anche meritata da parte dello stesso allenatore siciliano e del suo staff, capaci di mettere insieme 63 punti in 27 giornate, partendo da una situazione davvero molto complessa. Intanto oggi seconda giornata della Pool Scudetto con la gara fra Carpi e Pianese per quanto riguarda il triangolare in cui c'è anche il campo basso. Anche dal risultato di questa gara potrebbe dipendere il passaggio dei Rossoblu alle semifinali. Già oggi abbastanza probabile. Mercato allenatori e dirigenti. L'ex campo basso Cudini sembra interessi anche al Pineto. Lega Pro girone B mentre ha ricevuto una conferma dalla Vezzano. Il DS Enzo Aiano che ha lavorato bene anche in Molise. Il Chieti deve scegliere le caselle di DS allenatore. L'ex portiere fra gli altri anche del Milan Massimo Taibi sembra abbia avuto un colloquio con la dirigenza Teatina nei giorni scorsi mentre per il ruolo di allenatore il nome Caldo potrebbe essere quello di Massimo Epifani. L'Isernia fresca di promozione in quarta serie lavora per la prossima stagione. Confermato il tecnico Farrocco il lavoro a breve si trasferirà sul fronte dell'organico. Il dirigente Palmeggiano e tutta la società si dicono ottimiste su un ritorno allo stadio Lancellotta. Davvero impensabile che i bianco celesti possano migrare lontano dalla propria sede naturale in quarta serie. In questo caso va chiamata in causa l'amministrazione di Isernia con il sindaco Castrataro in primis per risolvere la grana Manto Erboso. Il torneo di Lega Pro entra nel vivo della fase dei playoff. Ieri sera andata della prima fase nazionale nel segno delle vittorie esterne come quella del Vicenza a Taranto grazie ad un gol di testa al decimo di Ferrari. Immagini che si riferiscono all'incontro. Unico pareggio quello fra Triestina e Benevento. Alla Bardati in vantaggio grazie a Redan al venticinquesimo. Pareggio dei campani al settantaseiesimo con un gol di Eric Lanini. Carrarese vittoriosa al Curi di Perugia con un 2-0 perentorio segnato da Zanon nel primo tempo e Di Gennaro nella ripresa. I toscani ipotecano così il passaggio ai quarti di finale. Successo anche del Catania vincitore della Coppa Italia di Lega Pro sul campo di Caravaggio contro l'Atalanta Under-23 con un gol a 6 minuti dalla fine di Boua. Altra vittoria esterna quella della Casertana sul campo della Juventus Under-23 al 92esimo con un tiro molto potente di Curcio. Sabato previsto il ritorno a campi invertiti.